vuoi ottenere la qualifica di certificatore energetico da sempre attenta alle esigenze del mercato del lavoro icotea propone un corso per certificatore energetico per sapere tutto delle novità sui servizi energetici sul calcolo della prestazione energetica e sui contenuti dell'ape attestato di prestazione energetica degli edifici vai su www.icotea.it tipologia altri corsi e cerca corso certificatore energetico degli edifici 80 ore il corso è accreditato dal mise mat m mit ai sensi dell'articolo 2 del dpr numero 75 del 2013 grazie a tutti